Si chiama Arbab Kizer Hayat, è il gigante buono, considerato come tale in Pakistan, ed è l'uomo più forte del pianeta Terra. Il suo sogno adesso è quello però di diventare un campione di sollevamento pesi e ottenere l'ambito riconoscimento ufficiale non solo in casa propria, ma in tutti i paesi del pianeta. L'uomo ha 25 anni d'età, il gigante buono, ed ha idee molto chiare, quella di diventare una star del mondo, e pensate che mangia 38 uova pro di ogni giorno, insomma è un super uomo, si alimenta in modo incredibile e si fa 3 kg di carne ogni giorno al di. Vi ringrazio per l'ascolto, una storia incredibile, quella di questo uomo che è considerato come l'uomo più potente e forte del pianeta Terra. Grazie, un salutone, a presto.